Quasi 4.500 candidati hanno superato la prima fase del concorso unico regionale per infermiere, le cui prove si sono concluse a Bari. Sentiamo. Ieri, nel capoluogo regionale, si sono concluse le prove del concorso unico per 566 posti da infermiere, organizzato dalla ASL di Bari. Si è trattato di una vera e propria maratona di 5 giorni e 9 sessioni per le migliaia di infermieri che hanno varcato il cancello d'ingresso del nuovo padiglione della Fiera del Levante. In 4.483 hanno superato le due prove, scritta e pratica, da svolgere in 60 minuti. Tempi concentrati e procedure ben regolate all'interno di un percorso unico, dall'accesso al padiglione sino all'aula d'esame e quindi al varco d'uscita, pensato per consentire un sereno svolgimento delle prove e nello stesso tempo garantire i controlli e le verifiche necessarie. La Puglia è stata la più rappresentata tra gli infermieri che hanno partecipato, seguita da Calabria, Sicilia e Campania e con numerose presenze anche da Basilicata, Lazio, Lombardia, Veneto, Toscana e Sardegna. In gran numero anche gli infermieri provenienti dall'estero, in particolare da Regno Unito, Germania e Irlanda. Ordine, sicurezza, trasparenza hanno caratterizzato lo svolgimento delle prove in ogni fase, una garanzia per tutti i candidati, ha spiegato il direttore generale della ASLA Bari, Antonio Sanguedolce. La nostra macchina amministrativa ha studiato e realizzato un concorso da grandi numeri in piena pandemia e nonostante l'elevato coefficiente di difficoltà, tutto è filato senza sbavature sia per le procedure concorsuali sia per il rispetto delle misure di sicurezza anticontagio. Dentro e fuori il padiglione della fiera, quasi un centinaio di addetti hanno garantito che il concorso si svolgesse in maniera ottimale. L'ultimo passaggio è rappresentato ora dalla prova orale. L'area risorse umane della ASLA Bari e la Commissione d'esame già da lunedì saranno al lavoro per organizzare tempi e modalità di svolgimento. La direzione strategica ASLA ha già chiesto alla Commissione d'esame di avviare e concludere i colloqui nel più breve tempo possibile, in modo da mettere la graduatoria finale immediatamente a disposizione delle aziende sanitarie, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di tutta la Puglia. Grazie. Grazie.